Per che cosa? Per calcolare il girovita basta un metro da sarto o da sarta, insomma quelli che abbiamo nel cassetto della cucina vicino alle posate oppure limitrofe, limitrofo alle posate. Quello che occorre per misurare il girovita è importantissimo, è facilissimo, tutti dovremmo farlo, usare il metro da sarta, perché il risultato incide molto sulla nostra salute presente e futura. Una circonferenza addominale abbondante può essere l'indizio di una condizione non normale. Ne parlo con il professor Dario Manfellotto, direttore del Dipartimento di Medicina Interna all'ospedale Benemerito, istituzione. Fate bene, fratelli dell'Isola Tiberina a Roma. Buongiorno professore, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei, ce l'ho nel cassetto perché è uno strumento fondamentale, ecco perché effettivamente come diceva la circonferenza della vita che va misurata anche lì con una certa cortezza, un po' al di sopra del bacino, senza trattenere il respiro per nascondere la pancia, un po' rilassati e senza stringere il metro. Quindi se i valori della circonferenza di vita superano quelli indicati, 102 nell'uomo, 88 nelle donne, vuol dire che c'è un eccesso di grasso addominale che è una condizione che indica così molto semplicemente una condizione di sovrappeso. E' significativa la differenza tra uomo e donna, ben 14 centimetri ci separano i due geni. E' significativa perché appunto rappresenta un po' la differenza anatomica tra il corpo dell'uomo e il corpo della donna. E' più frequente tra l'intracciare il grasso cattivo e il grasso buono nelle donne e negli uomini, insomma c'è differenza tra grasso cattivo e grasso buono e qual è? Ci sono classicamente nell'essere umano, ma anche nei mammiferi, c'è questa distinzione classica fra grasso bruno e grasso bianco. Il grasso bruno ha una funzione metabolica importante perché accumula e cede calore e cede energie ed è tipicamente quello per esempio degli orsi che vanno in letargo per esempio, che non mangiando hanno questa riserva di energia che viene progressivamente consumata. Si svegliano magri. Si svegliano magri e quindi hanno questa riserva di energia. Uno va a letto grasso, dopo il letargo si sveglia magro. E infatti nell'essere umano è un po' diverso. Non funziona. Non funziona. Non abbiamo, le differenze ci sono anche nell'essere umano tra bianco e scuro. Si ci sono, ma diciamo dal punto di vista clinico non è un elemento facilmente rilevabile, direi assolutamente non rilevabile. Non ingrassiamo tutti allo stesso modo, perché? Perché c'è chi tende a ingrassare facilmente anche con una noce e c'è chi invece può mangiare tranquillamente il lardo di colonnata e rimane in linea, c'è il metabolismo. Ma sicuramente sì, ci sono persone che tutti quanti, no, saranno sempre antipatici, quelli che mangiano, mangiano, mangiano e non ingrassano mai. Invece io per esempio mangio poco e ingrasso, quindi è una cosa che devo sempre stare attento. Ecco, sicuramente c'è una diversa capacità di utilizzare quello che si mangia, di consumare le calorie, quindi un metabolismo che cambia da persona a persona. Questo sì, l'uomo nella donna anche qui è una differenza legata alla conformazione anatomica. E anche alla menopausa? Sì, la menopausa è tipicamente nelle donne una delle età che maggiormente si accompagnano a complicanze cardiovascolari, anche a un aumento di peso. Diciamo che mediamente la menopausa coincide un po' con la media età, no? Anche nell'uomo la media età, l'età di mezzo è quella che porta poi all'ingrassamento. Noi siamo in questo momento nelle celebrazioni dantesche, no, nel mezzo del cammino di nostra vita. Per Dante erano i 35 anni, per noi sono i 40-50 anni, è l'età in cui tutti quanti tendono a ingrassare. Ed è interessante questo disegno che viene proiettato perché la differenza proprio è che la donna tende ad avere questo ingrassamento, come si dice, a pera, prevalentemente ai fianchi rispetto al torace. Nell'uomo, torace e addome ingrassano, di cui quella circonferenza di vita è un po' più ampia, le gambe e il bacino sono più sottili. Nel mezzo del cammino di nostra vita ti ritrovasti in una selva oscura? Spero di no. Domenico? No, Michele, però mi ritrovo a dare i numeri adesso. Vedo numeri, vedo quello WhatsApp a cui mandare messaggi, che è le 340-738-4068 e poi siamo in diretta Facebook. Ci trovate, come sempre, digitando Chiocciolina e Disir TV. Professore, la prima domanda che ho selezionato è quella di Manuel, che ci scrive Il peso è sufficiente a dirci se siamo in salute? Chi è magro, quindi, può star tranquillo? Eh, bella domanda. Eh, bella domanda, sì. Purtroppo il peso non è l'unico indicatore. C'è anche la glicemia da controllare. Sicuramente, di quella ne parliamo sicuramente. Il peso, se noi andiamo sulla bilancia, e c'è una grossa massa magra, pensiamo a quelli che fanno fitness, che fanno molta attività di palestra, hanno una grossa massa magra, massa muscolare, pesano sicuramente di più, ma non sono grassi. Il peso aumenta, ma non indica il grasso. Così come si può essere magri ed essere invece, come si dice, fra virgolette, metabolicamente obesi. Cioè avere una distribuzione del grasso in condizioni e in zone del corpo, come quella addominale, dove possono avere un effetto nocivo. e quindi il magro ha però un comportamento, dal punto di vista metabolico, di una persona obesa. Pesa di meno, ma comunque è da considerare un obeso. L'appunto l'abbiamo messo di anzi con un asterisco, la glicemia. Come va scontrollata? Quando? Dovano farlo tutti? Quali segnali dà la glicemia alta, a parte il rischio del diabete? Ma ovviamente parliamo di una condizione in cui il diabete non è ancora conclamato. E quindi perché lì i segni del diabete compaiono, ovviamente, chiaramente. Ma lì parliamo di una condizione di diabete avanzata. Una grande sete, una eccessiva di uresi, quindi queste sono altre condizioni. Noi abbiamo un problema però di glicemia che tende a salire nella popolazione generale, soprattutto dei paesi occidentali, anche legata alla condizione di obesità. È quella che viene chiamata insieme di obesità, cioè c'è diabete e c'è obesità. E che poi può diventare una sindrome metabolica, nella quale c'è la glicemia che aumenta, ci può essere un'alterazione dei grassi nel sangue, ci può essere la pressione alta, l'obesità, l'aumento dei trigliceri, insomma tutta una serie di condizioni che definiscono la sindrome metabolica. La glicemia a digiuno deve essere bassa, al di sotto di 100 globalmente. Se poi a digiuno è al di sopra di questo valore, noi già possiamo parlare di un'alterata glicemia a digiuno. Se a digiuno supera 126 mg per decilitro, già lì vuol dire che qualcosa non va. Il diabete è un diabete magari lieve, però è già manifesto. Poi ci sono altri due test importanti, che però vengono fatti su indicazione medica in certe condizioni, sono il test a carico, che è un carico di zucchero, 75 g di glucosio, e vedere dopo un'ora che cosa succede se la glicemia supera 200, anche questo è diagnostico per il diabete, e poi c'è l'emoglobina glicata, che è un esame del sangue semplice, che ci dice se nelle ultime 6-8 settimane la glicemia si è mantenuta normale oppure ha superato il valore. È una specie di film, ci indica che cosa è successo storico delle ultime 6-8 settimane. Se è alto vuol dire che la glicemia non è ben controllata. Bellissime queste novità diagnostiche di cui soltanto 20 anni fa non avremmo potuto parlare, mi pare, no? No, il test a carico si faceva 20 anni fa, anche l'emoglobina glicata è nota da tempo, ma adesso è applicata molto ampiamente nella popolazione generale. Francesca. Sì, Michele, un altro valore molto importante da tenere sotto controllo è senza alcun dubbio la pressione. In questo periodo soprattutto molte persone si sono ritrovate a misurarle in casa e gli errori non sono mancati. Professore, ci può spiegare a cosa fare attenzione? Ma lo sa che io non ho sentito? Ripetiamo a voce più alta. No, perché non so dove guardare. La pressione è uno dei valori che viene misurato, soprattutto in questo momento, in casa. Però gli errori sono tanti, quindi quali sono le cose a cui fare attenzione? Le chiedo scusa, ma qui c'è un problema di schermi. Qui guardi, ma non viene la voce, la voce viene da dietro. Adesso abbiamo guardato anche lo splendido labiale di Francesca. Benissimo. Allora, l'automisurazione a domicilio è un esame fondamentale, però procedura fondamentale perché tutti quanti noi abbiamo un apparecchio e misuriamo regolarmente la pressione. Che siamo in trattamento o non siamo in trattamento deve essere un'abitudine sana, diciamo, di prevenzione e di controllo. E allora, quali sono gli errori e comunque quali sono le raccomandazioni che dobbiamo seguire? È chiaro che se io misuro la pressione in orari diversi della giornata posso avere valori diversi, quindi giusto misurare sempre alla stessa ora, la mattina al risveglio, il pomeriggio, la sera prima di andare a dormire. L'importante è che siano valori tra loro confrontabili perché misurati alla stessa ora della giornata. La posizione è questa, seduti con il braccio disteso, la schiena appoggiata, non con le gambe accavallate perché questo è un errore. Bisogna essere un po' rilassati, essere stati a riposo per qualche minuto. Dopodiché si mette il bracciale dell'apparecchio della pressione, si mette qui al braccio, a metà del braccio, all'altezza più o meno del cuore. Non nell'avambraccio, ma nel braccio, al di sopra del gomito. Deve essere posizionato correttamente, soprattutto bisogna evitare che ci siano gli indumenti di mezzo. Oppure gli indumenti vengono messi più sopra e stringano. Il braccio deve essere libero, possibilmente bisogna avere proprio il braccio scoperto completamente. E il bracciale deve essere di giuste dimensioni. Perché molte volte si utilizza un bracciale piccolo per un braccio molto grosso o viceversa un bracciale grosso per un braccio molto piccolo. E lì la misurazione può venire alterata. Poi ovviamente chi fuma non dovrebbe mai fumare, ma se fuma prima di misurare la pressione ha dei valori che sono anche più alti. Così come il caffè stimolano ovviamente l'aumento della pressione. Se uno la fa franca fino a 60 anni, mi è stato chiesto di chiederglielo. Se uno è rimasto in peso forma eccellente fino a 55-60 anni, è facile che ingrassi dopo o ormai l'ha fatta franca? È tutto possibile ovviamente, però chi ha attraversato un lungo periodo della propria vita mantenendo una buona condizione fisica e quindi un peso non aumentato, probabilmente non aumenta di peso. Certo, se completamente cambia le abitudini può ingrassare. Allora, Domenico. Michele, sono tante le domande che stanno arrivando, quindi ricordo nuovamente i nostri contatti. Abbiamo un numero WhatsApp, mi raccomando solo messaggi, è il 340-7384-068. E poi se volete interagire su Facebook siamo in diretta, quindi potete scrivere proprio lì nei commenti le vostre domande. Professore, Claudia ha una domanda per lei. Ha il colesterolo alto e ci chiede, devo per forza prendere farmaci o posso semplicemente cambiare dieta? Allora, il colesterolo è una sostanza grassa fondamentale nel nostro organismo e è soltanto il suo accumulo che rappresenta una condizione di malattia e deve essere corretto. Purtroppo il metabolismo del colesterolo risente molto poco della alimentazione, quindi se noi facciamo anche una dieta molto robusta, molto ferrea, non riusciamo ad ottenere una normalizzazione di valori elevati del colesterolo. Quindi possiamo ridurlo di 10%, 15% rispetto ai valori di partenza, ma l'obiettivo che noi dobbiamo avere di un colesterolo molto più basso del valore di partenza, difficilmente lo raggiungiamo con l'alimentazione. Ceri, intanto vediamo una specie di riassunto breve anche per capire a casa le nostre analisi. Sì, questo è il classico valore di colesterolo, colesterolo totale, 200 mg per decilitro, una soglia al di sopra della quale si comincia a parlare di ipercolesterolemia. E quindi si comincia a ragionare appunto di alimentazione da correggere, di farmaci eventualmente, ma quello che conta molto adesso è il valore delle frazioni, le LDL e HDL, che sono le lipoproteine, cioè quelli che trasportano il colesterolo verso le arterie e quindi producono le placche di aterosclerosi, e invece le HDL, le lipoproteine che portano via i vagoncini che portano via il colesterolo e lo riportano per essere eliminato e metabolizzato nel fegato. Quindi quanto più è alto l'HDL, tanto meglio è, quanto più è alto l'LDL, tanto peggio è. Di qui la necessità di avere dei valori, come si dice, auspicabili, ideali. Quindi non un valore normale, ma a seconda del profilo di rischio della persona, del paziente, noi dobbiamo avere dei valori di LDL tanto più bassi, quanto maggiore è il rischio di malattia cardiovascolare che questa persona porta. Stesso discorso per i trigliceridi, professor Manfellotto? Sì, per i trigliceridi stesso discorso, perché sono comunque dei grassi che se si accumulano possono portare una condizione di rischio. Il valore di riferimento deve essere molto più basso dei classici 140 che vengono sempre riportati in tutte le raccomandazioni, le linee guida. I trigliceridi risentono molto dell'alimentazione. Rispetto a quello che riguarda il colesterolo, i trigliceridi risentono molto dell'alimentazione. Quindi è importante per chi ha trigliceridi elevati un'alimentazione ipocalorica, un'alimentazione soprattutto povera di zuccheri complessi e zuccheri semplici. Il pane, la pasta, gli zuccheri. Attraverso il metabolismo di questi alimenti aumentano i trigliceridi. Non influiscono sul colesterolo, ma fanno aumentare i trigliceridi. Professore, questi argomenti stanno scatenando il delirio dei suoi fan. Paola dice Manfellotto the best, poi casomai lei mette un conto. Come la fa conoscere Paola? Come no, abbiamo nome e cognome. Detto questo, la misurazione della pressione, siamo ancora fermi alla misurazione del girovita e della pressione che ha instaurato il caos. Allora, la statura con il girovita ha a che fare? Perché qui evidentemente è pieno di persone non propriamente altissime con un girovita magari un po' più abbondante. Allora, noi escludiamo dal discorso lei, perché voglio dire, lei alta, magra. No, ma io non scherzo pure col girovita. Quindi voglio dire, è esclusa da qualunque legibus soluta. Io sono fuori dalle leggi, sì, vabbè. Esattamente. Chiaro, si può essere alti e obesi, l'ho detto prima. Si può essere alti, apparentemente magri, ma avere la pancetta e il grasso addominale. Ci sono tante persone, soprattutto di sesso maschile, che hanno questa condizione. Quindi la risposta non è la proporzione con l'altezza del girovita. No, non è la proporzione con l'altezza. Il girovita è, diciamo, a sé stante come indicatore. Prima di ritornare sui binari, ci sono due persone che ci chiedono della misurazione della pressione per forza seduti, perché loro usano farlo sdraiati. Dunque, si raccomanda, nelle famose linee guida internazionali e italiane, abbiamo raccomandato di farlo seduti perché per una persona a casa è molto più semplice piuttosto che mettersi sdraiato, farlo seduto al tavolo, col braccio poggiato sul tavolo, sulla sedia e quindi, diciamo, è una condizione più facilmente riproponibile ed effettuabile. Sul letto bisogna anche poi, non si sa dove poggiare, no? Il braccio, l'apparecchio della pressione. È un problema non clinico, ma semplicemente di semplicità. Insistendo sulla misurazione della pressione, in realtà sulla cura della pressione sanguigna, il sale che ruolo ha e quali sono le dosi consigliate per non strafare, diciamo così? Il sale è notoriamente uno degli alimenti che contribuiscono non soltanto alla comparsa di una pressione alta, ma anche alla persistenza e alla resistenza al trattamento, perché una persona che prende dei farmaci ma fa una dieta ricca di sale, ovviamente non annulla o può annullare in parte o totalmente l'effetto della terapia. Perché il sale? Perché il sale contiene il sodio, il sale è sodio cloruro, il sodio prevalentemente dei due elementi è quello che tende a favorire la ritenzione di acqua nell'organismo e ad alterare l'equilibrio di quegli ormoni interni che tendono invece il sale e l'acqua ad eliminarli, quindi ad avere un'azione diuretica. Per questo una quantità elevata di sodio tende ad avere un'azione controregolatrice, cioè a far aumentare la pressione. C'è una indicazione che è quella di non superare i 5 grammi di sale al giorno. Sale vuol dire il sale da cucina, che ovviamente come sodio cloruro è un po' di meno, circa 2,7-2,8. Però questo sale non è soltanto quello che aggiungiamo. Anche negli alimenti, naturalmente. Bisogna tener conto anche di quello che mettiamo nella cottura o di cibi che sono già particolarmente salati. Per esempio i formaggi stagionati, buonissimi, che non vanno banditi, però se ne mangiamo una grossa quantità di parmigiano o di pecorino, c'è già di per sé stesso una grossa quantità di sale. Lo stesso gli insaccati o tanti altri cibi. Bisogna fare attenzione. Sta in posizione più favorevole per godersi la domanda di Francesca. Sì, Benedetta. Noi quando stiamo a dieta e cerchiamo di dimagrire, commettiamo tantissimi errori. Saltiamo la colazione, saltiamo i passi, mangiamo gluten free. Ma bisognerebbe fare attenzione soprattutto in caso in cui ci sarebbero dei valori della glicemia non del tutto ottimali. Perché, professore? A quali rischi andremo incontro? Lo dicevo prima, la glicemia è un esame del sangue molto semplice, che fa parte ormai di tutti gli esami di routine, al quale bisogna dedicare una grande attenzione. Perché se noi abbiamo una glicemia che a digiuno è leggermente superiore al normale, indica, è un semaforo giallo, ecco, come dire, dice attenzione, guarda che sta succedendo qualcosa, il metabolismo degli zuccheri si sta alterando. Di qui bisogna controllare altri valori per vedere se c'è un diabete che già sta comparendo. Fare attenzione alla propria storia familiare, perché il diabete dell'adulto è un diabete che è familiare, quindi un genitore o due genitori che sono diabetici, ovviamente hanno un rischio di aver generato dei figli che poi con l'età adulta, matura, possano diventare diabetici, quindi è qualcosa che deve essere considerata con molta attenzione. Qui, per cercare di prevenire l'aumento della glicemia, l'attenzione è sempre quella, l'attenzione al peso, l'attenzione all'alimentazione, l'attenzione alla vita sedentaria, che è un elemento che, anche questo, influisce sulla glicemia e quindi un'attività fisica regolare e riferita alla capacità dell'individuo è qualcosa che va raccomandato. Ho sentito un campanello, quindi Domenico, giusto? Sì, Benedetta. Professore, lo stress quanto può influire su colesterolo e diabete? Ce lo chiede Maria Luisa. Sì, noi sappiamo che il colesterolo in condizioni di stress, così come la glicemia, possono aumentare. È tipico, per esempio, il dato che nei pazienti che sono appena ricoverati in ospedale ci può essere un'iperglicemia nel primo giorno, nel secondo giorno di ricovero, anche a prescindere dalla condizione di diabete. Quindi è un elemento che lo stress può favorire. Diciamo che lo stress non crea una condizione di malattia, di ipercolesterolemia o di iperglicemia. È un evento così occasionale, ma è chiaro che se si vive in una condizione di stress perenne si trovano dei valori che sono superiori al normale. Professore Manfellotto, dovremmo durare molto di più in termini di tempo, perché veramente ci sono casistiche e ognuna meriterebbe attenzione. Ne prendo una da Facebook, ma per tante. La signora Italia. Sono affetta da fibromialgia, non posso prendere le statine. Il colesterolo è sempre stato più alto del normale, anche da ragazza. Mi dicono che lo creo io, e in realtà in parte già ci ha detto che è così, però non posso prendere le statine. Che cosa posso fare? Forse non vengono date le statine, perché siccome le statine possono indurre in alcuni casi, in una percentuale non elevata, ma insomma di casi significativi, 10%, un danno muscolare, chi ha una fibromialgia appunto si preferisce che non vada incontro a questo possibile rischio. Però ci sono altri farmaci, quindi sicuramente il medico può trovare altri farmaci, altre soluzioni terapeutiche, se l'ipercolesterolemia di questa signora deve effettivamente essere curata e i valori devono andare al valore ideale, come dicevo prima. Nel ringraziarlo ricordiamo che il professor Manfellotto è direttore del Dipartimento di Medicina Interna all'ospedale Fatebene Fratelli all'isola Tiberina di Roma, bellissimo peraltro, insomma pur essendo un ospedale però almeno dalle finestre il panorama è decorosissimo. È un palazzo del Cinquecento meraviglioso. Quindi però tornerà a trovarci anche nel nostro ultramoderno studio di Lisir. Grazie professore. Assolutamente, grazie. Michele.